ebbene carissimi amici ancora una volta il mio software tree va a vincere l'ambo secco a ruota come potete notare dalla schermata questa era la previsione elaborata in data 27 giugno che ha pagato al terzo colpo di gioco l'ambo secco 47 40 a bari nell'estrazione del 4 luglio 2019 ancora una volta abbiamo centrato un ambo secco e vi ricordo che questo software gioca soltanto per tre colpi quindi ad ogni estrazione vi andrà ad elaborare una previsione come questa da giocare solo per tre colpi e infatti abbiamo vinto ancora una volta un ambo secco quindi è questa è la testimonianza della vincita del 40 47 vinto sulla ruota di bari questo per testimoniarvi come le mie vincite sono tutte reali sono tutte documentate sono tutte vincite vere quindi questa è la testimonianza del 40 47 che trovate proprio qui che il software ci consigliava invito tutti voi ad acquisire questo software perché è un programma davvero valido che secondo me ci darà ancora tantissime soddisfazioni con degli esiti vincenti nell'arco dei tre colpi vi metto qui lo specchietto guardate 40 47 40 47 scontrino della vincita in descrizione vi metto il link per scaricarvi il programma poi potete contattarmi indirizzo mail in descrizione per avere tutte le informazioni su come avere il codice di attivazione del programma ma voglio farvi vedere anche un altro bellissimo esito dal mio software la super spia 10 che nell'estrazione del 29 giugno guardate cosa è andato a combinare con questa previsione con capogioco 72 il bilano nazionale ha vinto prima al terzo colpo l'estratto determinato poi al quarto colpo l'estratto determinato è ancora sempre a settimo colpo centra lambo secco 72 81 a milano e il terno secco 72 81 e 7 e questo è l'ennesimo terno secco vinto con i miei software perché ne sono arrivati tantissimi di terni e fare un terno al gioco dell'otto non è per niente facile ma i miei software tante volte riescono a centrare esiti terno secco come questo quindi oltre all'ambo secco del software tri volevo proprio testimoniarvi anche la vincita di questo bellissimo terno secco sapete che quando dei miei software c'è un terno ve lo vengo comunque a portare come testimonianza vincente quindi cari amici questo è un aggiornamento sulle vincite del software questa è la vincita del software tri 40 47 a vari speriamo che ne arrivino ancora tanti altri di ambisette speriamo che arrivi magari anche un termine tre colpi il mio invito è quello di acquisire questo programma di acquisire anche il nuovo software più che anche quello giocano i due colpi e ci darà sicuramente delle belle soddisfazioni per adesso un saluto a tutti